E' iniziata con il ricordo dei nuovi martiri aquilani, la giornata dedicata alle commemorazioni e alle celebrazioni per il 25 aprile nel capoluogo. 9 ragazzi tra i 18 e i 20 anni che all'indomani dell'armistizio, 8 settembre del 43, si unirono ai partigiani per respingere le truppe nazifasciste. Si chiamavano Bruno D'Inzillo, Bernardino Di Mario, Fernando Della Torre, Carmine Mancini, Giorgio Scimia, Francesco Colaiuda, Anteo Alleva, Sante Marchetti e Pio Bartolini. Per sfuggire ai rastrellamenti si erano rifugiati sulle montagne nei pressi di Colle Brincioni. Furono catturati dal contingente tedesco dopo una delazione e condotti nella caserma Pasquali dove, dopo essere stati costretti a scavarsi la fossa, furono fucilati. I loro corpi furono rinvenuti solo dopo la liberazione della città, avvenuta il 13 giugno del 1944 e successivamente ricomposti all'interno della scuola elementare di Amicis, dove ricevettero l'omaggio della cittadinanza. Bruno D'Inzillo era figlio di un colonnello dell'esercito, aveva da poco terminato gli studi liceali e desiderava iscriversi alla facoltà di medicina. Aveva scritto una raccolta di versi dal titolo Retoriche Cosmiche. Fernando Della Torre era originario di Sulmona e apparteneva ad una famiglia di origini ebraiche. Diplomato all'Istituto Tecnico Industriale, era rimasto orfano dei genitori e aveva trovato un impiego. Giorgio Scimmia era l'ultimo anno dell'Istituto Magistrale e sognava di diventare avviatore. Carmine Mancini era il più caro amico di Bruno D'Inzillo e, come lui, scriveva poesie e si accingeva iscriversi alla facoltà di medicina. Berardino Di Mario frequentava le industriali e fu l'ultimo a morire poiché non venne ucciso subito dalla scarica dei fucili. Sogni, speranze ed ambizioni della meglio gioventù degli anni della guerra che oggi, 73 anni dopo, si commemora per tramandare alle giovani generazioni il sacrificio di chi ha messo in gioco la vita per quella libertà che oggi si dà troppo spesso per scontata. Sotto la neve è la cerimonia nella villa comunale, con l'omaggio ai caduti della patria e l'Alza Bandiera. Per il sindaco Cialente un 25 aprile, che alla luce di ciò che accade nel mondo oggi, assume un significato ancor più importante. Passare dieci minuti a festeggiare la Repubblica e poi pensare che ci stanno altri esseri umani, identici a noi, bambini, donne, uomini, che o sono coinvolti nelle guerre terribili, pensiamo in Siria, quello che sta succedendo, oppure stanno conoscendo questo dramma biblico, io direi, di questi uomini e donne che cercano la speranza di vita andando sulle nostre coste. Guardate, noi non ci pensiamo, ma in questo momento questa sofferenza estrema c'è una risposta, fra l'altro all'Europa, di quei movimenti xenofobi e di estrema destra, che sono gli stessi che 75 anni fa portarono al dolore estremo all'Europa. Per il prefetto dell'Aquila, Francesco Alecce, si tratta dell'ultimo 25 aprile da prefetto, tra qualche mese infatti per lui la pensione. Da 16 anni, ogni 25 aprile, un'emozione diversa. Io ho avuto la fortuna per la sedicesima volta da prefetto di festeggiare il 25 aprile. È un onore che lo Stato mi ha dato e che oggi completo per l'ultima volta, perché fra sei mesi sarò collocato in crescenza. È l'ultimo 25 aprile che vivo da prefetto e ho vissuto, seppure in condizioni così soggettive, così straordinarie, meteorologiche, un forte sentimento di partecipazione, come spero tutti quelli che siano qui presenti, proprio per la delicatezza della vicenda che sta vivendo la nostra nazione e per la difficoltà che abbiamo tutti di trovare sempre ogni giorno una sintesi positiva tra le grandi difficoltà che viviamo. In questo, naturalmente, noi all'Aquila abbiamo un'attenzione ancora più forte, più viva, una sensibilità più acuta. Fuori programma imbiancato all'Aquila, dove attorno alle 8 il maltempo e la neve hanno stretto in una morsa la città e l'intero Interland del capoluogo. Certo, le previsioni avevano preconizzato un brusco abbassamento delle temperature, ma la coltre bianca ha sorpreso un po' tutti. Fuori dagli armadi, più mini e cappelli, con il ricordo delle giornate estive dei giorni scorsi, che sembra ormai sbiadito. Situazione più complessa in quota, con la neve che è scesa abbondantemente sul Gran Sasso e sui paesini della cinta montana, regalando a residenti e turisti arrivati per il ponte del 25 aprile uno spettacolo magico e al tempo stesso surreale. Un leggero strato di neve si è depositato anche sulle autostrade, ma grazie al lavoro dei mezzi sparti neve e spargisale non sono stati registrati particolari problemi alla circolazione. Stesso discorso su strade statali e provinciali, dove l'obbligo di gomme termiche è terminato il 15 aprile scorso. Considerata la straordinarietà della situazione, il sindaco Massimo Cialente ha annunciato inoltre dalla sua pagina Facebook che fino al 1 maggio verrà prorogata l'accensione dei riscaldamenti in tutti i plessi scolastici, progetti case e Banca d'Italia. Tre punti per ipotecare la permanenza in Serie D, non ancora matematica. Il successo ottenuto al De Marsi con la Miternina ha regalato tre punti comunque pesanti all'Avezzano che cercherà di chiudere definitivamente domenica prossima a Iesi il discorso salvezza. Per la squadra scopitana arriva la retrocessione matematica dopo una stagione contrassegnata da tante avversità, ma anche da errori che dovranno servire da lezione per tentare sin dalla prossima stagione la nuova scalata nella Lega Nazionale di Lettanti. Si comincia con la squadra di casa all'attacco. All'ottavo minuto Di Curzio in area non riesce a trovare lo spiraglio giusto per concludere in maniera vincente, permettendo alla difesa ospite di salvare. Il gol è però solo rimandato e arriva al tredicesimo quando Di Curzio si presenta davanti a Di Vincenzo, infilandolo per l'1-0. Al ventesimo punizione Di Bisegna piuttosto telefonata con l'estremo Aquilano che non rischia la presa respingendo con i pugni. Al ventiquattresimo arriva la risposta della formazione ospite che ha affidata un tiro di Schippol parato da Di Girolamo a terra. Intorno alla mezz'ora c'è una nuova fiammata della squadra di casa che prima si rende pericolosa con un tiro di Bisegna deviato in calcio d'angolo da Di Vincenzo e poi sugli sviluppi del corner con un colpo di testa di Menna che alza di poco sopra la traversa. La squadra scoppitana spinge ma manca sempre l'ultimo passaggio in area marsicana. Al trentaquattresimo tocca così a Di Genova in area della Miternina fallire in maniera clamorosa il gol del 2-0 e della sicurezza. Nella ripresa al primo minuto Pollino conclude dall'interno dell'area aquilana e per poco non inganna di Vincenzo che riesce a bloccare la palla proprio sulla linea di porta. Al quinto è di Genova a mancare lo specchio con un tiro dalla distanza. All'ottavo si rivede la squadra di Candido di Felice con una punizione di D'Alessandris che fa correre un brivido a Di Girolamo che vede la palla attraversare l'area di rigore senza che nessun giocatore giallorosso riesca ad intervenire. Al diciottesimo il ne è entrato Mazzaferro all'occasione giusta per pareggiare i conti ma manca di pochissimo il bersaglio grosso con la palla che termina a lato. La gara resta aperta e piacevole da vedere con Lavezzano che si rivede minacciosamente in avanti con Bisegna che impegna in due tempi al 22esimo di Vincenzo. Poi ancora attacchi dall'una e dall'altra parte prima del triplice fischio finale di Iacovacci di Latina che dai là alla festa bianco-verde per una salvezza ormai sempre più vicina.